ooooh si 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 no 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 si 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 oddio che paura oh mio dio l'aspettavo qui ma pensavo stasse dall'altra parte occhio messicano messichero buonasera salve messichero buonanotte grazie mille per aver partecipato c'era un suo amico che è là occhio 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 che sparano occhio che sparano occhio che sparano questi due fuori uno fuori uno fuori uno fuori l'altro Occhio che c'era una banalita qua sopra Occhio che c'era una banalita che ha buildato E' andata qua sopra Ma dove diavolo è? Si sta facendo gli affari suoi questa Questa è una, ok, macchina Macchina 100% Ma guarda che fiscita Ma tu guarda che Che fiscita schifosissima Vieni qui, vieni qui Che se è bianca maledetta Ma che diavolo voleva fare questa pazza scatenata Salve Bani Mi vuoi dire Oh, sparano, occhio, arriva l'amico Probabilmente, oh, fermi Questa me la prendo assolutamente Dovrebbe essere da quest'altri Pizzi, il suo amico Macchina, 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 macchina Ehi, Gianfranco Oh mio Dio, ma come abbiamo fatto a killare il signor Gianfranco Oh mio Dio, gli abbiamo sparato attraverso i vetri Questa è un Uber kill, signori miei Anche perché oggi è l'ultimo day Dove possiamo giocare all'interno di questa mappa E all'interno di questa season Oggi uscirà la nuova season 2 finalmente Ma è fatto tutto molto a caso Perché ancora non sappiamo a che ora Non sappiamo, non abbiamo nessun teaser Cosa che Fortnite ha sempre fatto Nelle recenti season Non abbiamo i teaser Ma abbiamo questa mega immagine qui Si tratta dal fumetto di Fortnite per Marvel Dove ci fa vedere tutti i vari eventi che ci sono stati O meglio, l'evento di Galactus Quindi lo possiamo trovare il primo sulla sinistra Quello centrale è l'evento del robot contro il mostro Tutti e due gli eventi già si sono stati all'interno del precedente season Ma guardate, il terzo evento, la terza immagine È qualcosa che ancora si deve verificare Quindi o probabilmente sarà l'evento finale di questa season Che magari ci sarà tra qualche ora Salvo eventuali imprevisti E salvo che magari spostino la data dell'uscita della season Anche perché non si sa niente veramente Ma quello che vi voglio far vedere È guardate il mega portellone Il mega gate A me sembra molto similare Alla costruzione sotto i piedi della statua di fondazione Quindi c'è quella porta che ancora non sappiamo esattamente Che cosa c'è dentro Però so che qui c'è un playerino Che sta sciagallando le nostre cose Oh, bimbo bello Vieni qua che ti faccio assaporare questo bel pump Occhio Mossata Fermi C'è qualcun altro qua dentro Quest'intanto sono le mie build Zucchina che pensi che non me le rompo Molto Oh, c'è qualcun altro official Dentro queste Oh, porca la miseria Oh mio dio Fermi, 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 fermi Dobbiamo inventare una roba E quindi probabilmente succederà qualcosa sotto la statua di fondazione Se no fatemi sapere voi qua sotto nei commenti Cosa potrebbe essere questa immagine che abbiamo visto prima Occhio che sono arrivate con le ragne degli spiderman Ma io voglio far vedere un'altra cosa Prima di morire malamente Guardate la ragazza con i capelli rossi Sempre all'interno dell'immagine di prima Ha una sorta di superpotere di raggi che escono dalle mani Non abbiamo mai visto questo superpotere all'interno del gioco di Fortnite Quindi probabilmente è uno spoiler di qualcosa che vedremo all'interno della nuova season Magari non lo metteranno subito Però molto probabilmente ci sarà qualcosa di fresco Come Non so dove sono andati i tizi con le ragnatele Quindi noi facciamo finta di niente Occhio signori miei Che molto probabilmente all'interno del passbattaglia Ci sarà il mitico Doctor Strange Dopo ovviamente la skin di spiderman Che abbiamo trovato all'interno di questa season Oh mio dio Ma che diavole è successo? Qui c'è un playerino morto Ma che? Ma cosa ha droppato qualsiasi? Ma cosa diavole è successo? Io mi prendo sto bel No La mitraglietta Bassa La prendo La prendo la mitraglietta del boss della crossa No ancora non sono Non ho capito Oh ma la corona? Perché non me la fa prendere? Ah perché abbiamo già la corona Ok possiamo andare belli tranquilli Per concludere il discorso di Doctor Strange Ci potrebbe essere un'abilità di Doctor Strange Oddio mio Oh mio Sta nascendo Ah no è finito un tornado Oddio Sembra che stava stava nascendo qua Ah no Si sta formando ora un tornado Fighissimo Potrebbe essere il mantello della lievitazione di Doctor Strange Proprio questo qui Quindi attenzione Non sarebbe male effettivamente Io intanto prendo eliminazioni su eliminazioni E amici miei mi raccomando Soprattutto ora che sta per uscire la nuova season Inserita assolutissimamente all'interno ai negati oggetti Il codice più fresco del centro Italia R4 Oddio ma chi diavolo C'è c'è un cecchino fermo immobile Ma guarda quel male Ma cosa diavolo Ok a fine dei colpi Cuccio a fine dei colpi Fermo Lo dobbiamo andare a prendere Quello è un viscito eh Gradine per lui Granatine per lui Non smetterò mai di dirlo Finché non lo chiediamo Ovviamente non l'abbiamo chillato Però l'abbiamo lanciato molto molto bene Occhio che c'è sicuro un amico Ok Eccolo Eeeh Oh 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 Non si è sfidato Ma ancora col cecchino questo Proviamo a fare quel trick Proviamo a fare quel trick Occhio Di rimbalzo No è scappato È scappato È scappato Qualcuno gli sta Sta sparando qualcun altro Occhio a questo con le ragnatele No 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 Voglio la tua kill Cuccelo Voglio assolutissimamente la tua kill Quello Ho entrato Sì È qua dentro da qualche parte 100% Qua dentro da qualche parte O è scappato via Ma non credo Perché non ho visto altre ragnatele È lì dentro Io ho una paura Che questo viscito Ci mira col cecchino E ci fa una bella frittata No 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 Ragazzi 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 Però così no Però così no ragazzi Però così no Non mi potete far prendere questi colpi Guardate Ma c'è Oh Sento sound Eccolo lì Il topo di fogna Eccolo lì Guardate Ma questo è proprio Il topo di fogna Ma che cia Quello Quello lì era Era il tizio Ma è andato C'è l'amico di qua Oh no no Blef Occhio Ho sentito tutto il poteri Di spiderman Oh mio dio Ma che diavolo Ok È qua sotto Bananita Bananita Cosa diavolo vuoi fare Oh oh No no Lancia granate no però Lancia granate no però Ragazzi Io ti becco Oh 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 Fermi fermi No 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 Brava 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 Rimani là Rimani là Ok Ben per te Ben per te cucciolina Mitraietta Mitraietta del boss Ti prego Funziona Fagli male Mannaggia Sta mitraietta Non riesco a usarla Anzi Non so proprio Utilizzarla Occhio che Oh Corri 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 Ok Granatina Sperlaine per lui Attenzione perché C'erano altri tizi Uno l'hanno atterrato Io lo finisco pure Occhio Mi stanno sparando Dall'altra parte Dobbiamo andare a prendere Ehi Bani Dove diavolo Stai andando No 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 Bani Ma porca la miseria Di sta Bani Dobbiamo stare attenti Probabilmente È la nostra Oh Me l'ha fatta Tanti la faccia Occhio Fermi Arrivando Un accetto Porca la miseria Un accetto per cento Noi dobbiamo fare un'altra mossa Noi dobbiamo fare un'altra strategia Ci vediamo di qua Spigliamo quel tizio lì Che mi sembra abbastanza un polletto Sta guidando contro altri Ok Ci dobbiamo inventare la kill su Bani Ci dobbiamo inventare la kill su Bani Anche perché è bianca Molto molto buono Io andrei a prendere quella tizia Anzi Chi vediamo questo Che è buon hit Si vede Era lui la nostra taglia Molto buono Occhio Bani Occhio Let's go Let's go Let's go Andiamoci subito a prendere Bani Più che altro I super poteri della zia Bani Tre playerini vivi Occhio che questa sarebbe una win importantissima Perché è l'ultima della season Se c'è Ma io guarda Non capisco come fanno Avece tutte Armi oro Ma tutti quanti Vabbè che se mi killano da me Ho armi viola Oro E anche mitica Sicuramente stanno Dietro o su quella montagna Perché il tizio che abbiamo killato qua dietro Sparava a loro Che erano qua dietro Oh mio dio che lutto Ehi la Guarda questo Pure armi Un'altra arma Che non è mitica Che non mi ricordo come si chiama Barilotto Sì grazie mille Siamo attenti Loro sanno sicuramente Che noi siamo qua Dobbiamo inventare la giocata eh Dobbiamo capire dove diavolo sono Ok uno lo vedo È lontanissimo Quasi quasi lo andrei a prendere Anzi Sì andiamo 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 Scappa 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 il vichingo Scappa il vichingo Lo vengo subito a prendere E salve cucciolino È bianco Occhio Ok buonanotte Verrà da solo Quindi vuol dire Che siamo Ok lo vedo Lo vedo Lo vedo Questo è un vicino Questo è un vicino E anche a scarsone Oh mio dio quanto ci prende però Fermi Non possiamo rischiare assolutamente Anche perché Un cecchino per noi L'ultima col cecco L'ultima col cecco E desideri Probabilmente Non mi dica un bottazzo Il bottazzo alla fine sì Il bottazzo alla fine sì Non mi chillare Signor Botti Bravo Fermi Let's go Ultima win di questa season 1 Speriamo che tra poco andiamo a vedere La nuova season 2 Ovviamente usciranno una bordata di video Sul canale Quindi mi raccomando Se ancora non è fatto Iscriviti al canale Con la cappella inattiva Un bel like E cosa importantissima Fatelo Assolutamente Fatelo ora All'interno dei nega soggetti Se mi volete supportare al massimo Utilizzate e inserite Il codice più fresco Del centro Italia R4 Ora come al solito Vi lascio due video Bomba incredibili Danti al vostro schermo Quindi mi raccomando Andatevi a vedere Noi ci vediamo prestissimo Con tante altre news E L'estra Spera